Ok, grazie, grazie alla nostra relazione, siamo pronti stasera, molto piacere di intervenire per problemi famigliari. Sì, per un po' che va buone, però speriamo oltre il suo evento di avere almeno quasi, almeno quelle romane. Esatto, a concreto. Anche perché noi abbiamo in programma di traslocare presto in diverse città italiane, fra cui andremo al Catanzaro, che è la mia città d'origine, poi abbiamo Milano, Torino, Firenze, Napoli, insomma anche Bari, vorremmo fare anche la città di Vidraudia. Io sopportare che siete tutte donne, questa è per voi donne. Assolutamente. Lo smette in mezzo a tutti, così c'è anche lei, spero ci rubiamo. Simeone, sei sveglio Simeone? Ci fai sta cortesia, bravo, faccio sta cortesia.